La così bella spene 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 La first time when we started to speak about this recording I actually had a big package of scores, it was 27 scores from Milano and from Donizetti, only many operas that I've never heard, never seen in my life I didn't find any recordings. For me it was important not just to have a sentimental pieces, you know, where you just listen beautiful melody, but also have some characteristic challenge, you know, not only just sad, but also a little bit more naughty, more nasty music 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 è un reperto molto difficile per cantare, per la voce bisogna avere un controllo superiore del respiro, dell'intonazione, bisogna essere capito in un po' di tempo di dare un'emozione senza un appassionato portamento, un appassionato scrimi, come trovi in Puccini. L'interpretazione è la più importante e ciò può fare la differenza tra un cantante molto classica e Elina ha tutte queste qualità e è una reale interpretazione quando sanga Elisabetta, Queen of England, è Elisabetta, quando sanga Nellie o Romeo, è Romeo e così via. Questo, credo che in fine, è il più importante. Questo Bellini dopo l'Oscura è probabilmente uno dei tipici, tipici bel canto, di un'articolo, di un'articolo, di un'articolo, di un'articolo, di un'articolo. Per me, come dicevole, ti senti solo, ti senti solo le luci e non bisogna fare più alti. Ar sapere un'articolo. Torna Torna